Bentornati su MyFootballJersey! Oggi vediamo questa bellissima tuta della Juventus per la stagione 22-23 indossata da Pietro. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info La tuta è molto bella! Nella nostra classifica quante stelle prende Pietro? Quattro! Bellissima! Bella in tutti i dettagli, fedele ai colori della Juventus. Il costo lo vedete qui sopra? Molto basso per una tuta fatta veramente molto bene, con ottime rifiniture e un'ottima vestibilità. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete utilizzare per comprare quello che volete. Ora vi lascio la parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Nel frattempo regalateci un grande like e iscrivetevi al canale. È l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni. Ciao, alla prossima! Ciao, alla prossima!